Tra l'altro la gente crede per di più che l'Europa sia una cosa buona, anche se nessuno sa nulla, per esempio sono sicuro che nella sala qui nessuno sa bene com'è governata l'Europa, la comunità europea. La comunità europea, c'è un Parlamento europeo, il Parlamento europeo si occupa di questioni per esempio umanitarie e tutti i giornali pensano che la questione dei diritti umani sia la cosa più importante della terra se uno ha un po' di cultura giuridica, di attenzione politica, sa che i diritti umani servono soltanto a legittimare, autorizzare l'intervento armato delle grandi potenze dove vogliono, questi sono i diritti umani, i diritti umani oggi sono usati perché le grandi potenze possono bombardare un tale posto inventando che c'è stata qualche cosa contro i diritti umani, tanto i giornali lo scrivono e questa è la situazione europea. E vanno all'Europa che è governata l'Europa, il Parlamento non governa assolutamente l'Europa, la gente crede che sia come l'Europa, non è mai la legge che governa l'Europa, l'Europa è governata da commissioni, le quali commissioni sono formate per metà dai rappresentanti delle grandi industrie del settore, a metà immaginate, a metà significa tutto, perché se già ci sono con le lobby, la metà significa tutto, io sono stato invitato una volta a una commissione che doveva valutare le misure di sicurezza, una commissione che non contava nulla, solo a etica consultiva, e mi hanno detto, mi hanno spiegato che quelli che decidono le misure di sicurezza, per esempio quelle che quando siamo entrati qui, queste sono fatte dalle grandi industrie di armi, le quali industrie di armi si sono convertite a fare questo grande business che oggi è in Europa, le misure di sicurezza. L'Europa però è governata così, quindi anche poi se noterete in futuro che per esempio il livello non potrete più sapere da dove vengono i cibi che voi comprate, perché appunto queste commissioni hanno deciso che non si deve più mettere d'ora in poi da dove proviene il cibo, dove mangiate, eccetera, eccetera, perché appunto sono formate per metà dei grandi industrie. Grazie.